E sentivamo le varie cantanti, tu che vai in terra con la Casoni, e io mi porto gli elementi e poi vengo a trovarci, e mi cantò la sua nambola, e gli dici ma cosa viene a fare qui, che dovresti insegnarvi adesso a cantare alla Carta di Sarelli, e cosa sei venuto a fare, e era vero, è vero, è vero. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.